Sono diversi i servizi all'interno dell'ospedale maggiore di Cremona che rischiano di essere smantellati rendendoli privati e di conseguenza pagamento. Questo sta sollevando molte problematiche, non solo di carattere economico perché non tutti potranno permettersi di pagare dai 100 ai 400 euro per una visita, ma anche criticità sociali in quanto il divario tra persone ricche e povere sarà ancora più evidente. È un problema importante perché vediamo sempre di più che ci sono servizi che vengono smantellati, c'è sempre più difficoltà dalla parte delle persone di avere una visita in tempi decenti e purtroppo si sta andando in una direzione dove chi ha possibilità economiche può permettersi di avere la visita magari dopo pochi giorni, chi invece soldi in tasca non ne ha, finisce a 12 mesi, 8 mesi, un anno. Insomma, la situazione è un po' preoccupante e soprattutto in una città come Cremona dovrebbe esserci massima attenzione dal punto di vista sanitario, anche della programmazione e pianificazione perché le leucemie, le patologie cardiorespiratorie, tumori alle mammelle raggiungono numeri elevati e soprattutto sopra la media regionale e quindi dal punto di vista dell'assistenza, della cura e dell'accompagnamento del paziente dovrebbe esserci massima attenzione, forse molto di più rispetto a altre zone. Soprattutto vediamo molta poca attenzione da parte delle istituzioni che sembrano non voler alzare la voce quando per esempio non si completano gli studi epidemiologici che invece dovrebbero riuscire a dare alcune risposte e far capire quali sono i servizi che bisognerebbe portare sulla nostra città e soprattutto quello che dovrebbe essere la vera svolta dal punto di vista della qualità della vita. Inoltre il consigliere regionale ribadisce che l'impegno da parte degli organi amministrativi territoriali per preservare l'ambiente e di conseguenza la salute pubblica deve essere più attento. Non si è voluto ammettere quelli che sono i grandi problemi che vive la nostra città dal punto di vista ambientale e sanitario e quando non si ammettono i problemi si sta facendo già il primo grande errore perché vuol dire non ammettere la realtà e quindi vivere di immaginazione e di sogni.